Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info mi sembra tutto strano ma guarda come hai ridotto la tua casa guarda io sono sicuro che quando vivi ti andai ammazzato mamma mia guarda è assurdo vivere così in questa casa è da morte ma guarda è questo che ti fa rabbia perché non ti sei vista tu come sei fatta non ti sei vista una zampa sembri guarda che ridotto tutte le calze tutte rocca almeno io so di essere bella guarda ti rendi conto come sono bella dai dillo guarda ti fa rabbia questo dimmi che ti fa rabbia dimmelo assolutamente non ho paura mi viene da ridere guarda mi viene da ridere ma che fine hai fatto ma che fine guarda io sono contenta di averti preso almeno qualche volta avere il tuo marito guarda tra le mie braccia guarda si si nelle mie braccia mi sembrava di sentirmi nel prato guarda a prato a prato nel prato di margherita io mi sono sentita ma tu devi essere un piccaccio no tu tu non dici no di andare a camo di rigida no perché non tengo niente è questo che ti fa sentire gelosa sei gelosa dai dimmi sai quante volte non ti avevo capito che volevi essere come me come a te si tu sai di chi ci ti vive è il colmo chi è da salute ti ti vive si 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 ti ha dimonimi di chi addirittura a questo punto tu vuoi mettermi a terra ma non riuscirai a mettermi a terra sono contenta come sei ridotta guarda zampa sei una zampa sei solo questo vuoi essere una zampa guarda guarda quei capelli come sei ridotta guarda ti butterò a terra guarda le sono convinta le butterò a terra eh mi dispiace per l'occhio per il figlio ma io mi dispiace per l'occhio per il figlio ma io mi dispiace per l'occhio ma io mi dispiace per l'occhio non ti posso prendere l'occhio che ti ha mai visto ah vedi che ho ragione io stupida tu sei una stupida sei sei una stupida però che mi ci convince Carlo dà te di far fare di far fare di far fare la cosa più brutta di questo mondo ma non mi puoi toccare tocca mi posso essere toccata solo da uno che mi piace tantissimo lo sai solo da uno eh circa lo sai bene lo sai marito si tuo marito guarda tuo marito me lo so baciato anche lo faccio lo faccio con il lardo guarda 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 tutta roba ritira so che angela lascia la lela mi dispiace mi dispiace di te venire ad abitare tu non dovevi essere lì non dovevi essere lì mi dispiace del signor Don Domico che era una persona per bene venire a trattare voi guarda mi dispiace è andato terra a terra ma non è tuo marito sei tu che ovviamente sei proprio brutta guarda 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 ci mi ha detto tu non ti ha detto che non ci ha fatto cucca dai fammi nessuno facciamo i miei d'arru ti ha fatto il vino guarda la cingua la cingua la cingua guarda guarda come sono contenta nooo ci dovevo le gippe sono di trancinocra lì vabbè lo si ma faccio e e e se li dà qua e e bro a a te hai ragione vedi faccio vedere tu a Timote ci sei dato la parola e la parola adesso stenga pavuta la moella pur indottavus non fegno sali la piana la paese non c'è problema già fai vedi a qui a dove va ficher ieri ieri va partire chies mamma santo leite tazanassa non vai non vai fatican se t'aparte stu vut camisa rosso tuta truccate le ricchi parla de manto non vai che vai chias pesa po stai giusto pula pachiné d'a dito noda che che non mi chiamiamo di una settimana, non ci parliamo di una settimana no, niente proprio, c'è profumo di me buono adesso sappia che da tanto, questa mattina va a farlo ma capito che solo la trattano tutta l'andrea e roba di profumeri mi raccoma, papà fai te vale, a chi c'è da voglio, non dici più che tu non fai te fai te anche che sa fatica a me non mi piace io mi do la morte brah, a chi dico, che dici che è dietro che c'è da mangiare? dietro va a scendere, è come il bulldog che la legge mi diceva, non c'è, non c'è non c'è, non c'è che io penso che senza dietro non c'è, non c'è a me mi chiamano la C-Wab, ci mi faccio una cordina d'azione la pensa è buona ah, papà, poi c'è da un studio dove io faccio il piercing, mi ha fatto un soldo di paloccio e io c'è dove voglio mettere la legge fai te a chi quando c'è la pelle, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è e tu sai, non c'è, non c'è, non c'è ma io c'è, non c'è, non c'è ma da stamattina voglio fare beh, però io sono avanzato, che l'idea non c'è, non c'è, non c'è, non c'è mi ha scelto anche la capita no, la capita è della seissa allora mi ha fatto con color, non posso fare la tigre ma non c'è qualcosa, non c'è no, che... che... io non c'è, tu sai che soggio la tigre allora mi posso fare una pelle ma che la signora è grossa che sono tutte fighe femmine che la bruno si spessore non c'è, non c'è, non c'è, non c'è 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 non c'è, non c'è tutto ciò che non si fa sotto la città non c'è, non c'è, non c'è papà, ma che vuoi io da mangiare? ahi, voglio... ah beh, se mi ha spiegato già che... che dovrà essere? ma io non c'è, voglio accettare qualcosa da mangiare da per il parco da mangiare vuoi quello che ha dato la mozzarella accettare il prosciutto crudo ma sono latte, non c'è il prosciutto crudo non c'è il prosciutto crudo non c'è il prosciutto crudo e se ci vuoi fare, non c'è la mozza di boff combattere te non comando me, c'è chiede la voglia, mi piace pure la mamma vuoi la carca a morire di me ma non c'è il caffè mi fa stamattere non c'è il prosciutto crudo non c'è il prosciutto crudo non c'è capito nulla la battaglia sono già vingiuto non so se vengi con l'uè la d'accia questo che ho mandato nella parola a frate che sono da zio e che ha fatto uno per mandare la parola a prescente sta porto no siamo disposti a tutto ormai doni curva nord e curva sul ci facciamo questa da l'ulta papa, l'acciao, hai lasciato i tuoi No, non ne esce più, mi sono già tutto preparato. Ehi, Lapo, vai, a te, vai. Vieni a dove, vieni. Non si capite nulla. C'è questa, no, state chiedere, c'è questa. Oh, questa. Lì, lì. Non si capite nulla, non si capite nulla. È troppo corta dalla gomma. La gomma da portare un gatto. Oh, beh. Mettate uno dalla casa. C'è la gomma. E' un bordo. Scapite nulla. Ma, Papa. Non si capite nulla, Isa. Non si capite nulla. Non si capite nulla. Fai ciò che è vero. Ciò che ti fa spiegare la capa, noi non ne facciamo nulla, nulla. Non si capite nulla. Chi è solo comportamento che si capite nulla, Isa? E' un bordo che si capite nulla. La cucca. Vatti, mi roba. Ci si fa tappa ad accé. Si va male a 12 giù, lo spero. Aferrere. Hai subito a sed. Che salve. Non mi ti mostrami che tra i gana ragazzi. Ci voglio dire che il termine che è chiesto mamma. Papa non è dax, Papa Che purto la davo ci si come un attacchetto Questa ma c'è di si dat, avas Navo al davas Avas Si non posso che vuole sembra la mamma e papà D'accordo, mi dò rive Dema Ma voxia pena a causa Vi accama a Wif Ma Tu devi fare ma Wif Davas per sé Papa non si capite proprio now Con Penso che Emmanuel vuole a me Sì, siamo amici una cosa di chi pensa che sei innamorato di me, pensa tanto di chi di questo, non mi vuole chi a me, papà? A me non mi interessa molto questo Manuolo, 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 a me non mi interessa molto! Papà, ti devi dire che non mi vuole, non mi vuole, ma non mi chiedono, non mi puoi mai vedere! Si, si! Si! Non mi ha maldrattato, mamma e figli! T'hanno spurtanato e tutto barbarico e hanno ragione a mamma e figli! No, papà, tu hai detto che non vanno a farlo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no non mi ha fatto, non mi ha fatto non stavo preparando ussap che io, che ha fatto che io muoio spesso che le mani, non c'è libero e che dà accendere, tutti due stanno e ussap e 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 va a metto due e non piace a me, non piace a niente poi se me, tant'anni che sono spessato nella mia mamma, non sono mai bevuto lo che ha fatto come ussia non c'è, non c'è non c'è, non c'è non c'è, non c'è non c'è, non c'è permesso ciao ciao signor Vito grazie per la telefonata fuoco io davvero non volevo venire fuoco la moto, meno male sai dove trovami mi ha convinto il tuo amico signor Luna di venire a chiarire i fatti non c'è, non c'è comunque come sono andate le cose lo so che non ti è piaciuto neanche a me ci cos'è un fatto? il fatto di Isa e sai tutto quello che è successo inutile che mi metto a ripetere quindi io davvero questa casa non voglio più venire e tra di noi è finito ha visto come si è comportato mia madre è incazzata come la vedo domani deve partire non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è ci sono i fatti non c'è c'è non c'è non c'è la mia madre fa non c'è la mia madre non c'è è arrivato non so se lei è innamorata di di lui o no o cosa hanno parlato c'è un disonore in questa casa si è un vinto yes a parlatemi mia madre mi ha fatto aprire gli occhi che sono stato ingannato da tua figlia oh ma tu sei un uomo non sei un uomo, non puoi capire tu sei un uomo oh no io non so cosa ti chiamare perchè mi vuoi capire, io ho ragione si capito uno qui non mi faccio una vera la situazione è questa, Issa che mi ha parlato mi ha detto tutta la verità, non ci stai inutile che sognano c'è cosa che è venuta, bomba, 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 ha fatto la monimè io lo sai che non posso fare niente senza il consiglio di mia madre che adesso parte poi adesso io parto con lei o parto dopo, va del mio paese perchè per Issa sono rimasto qua, lo sai se è finita tra noi come posso fare a stare qua che devo stare a fare qua la storia del cuore di Manuel è un uomo che può boxe a pescire perchè mi ha portato come la veglia il cuore ma io vorrei credere in te davvero che sei un uomo come me ma io vorrei ora mi piace come si è accaduto? io sono chiamato c'è capito che ha sbagliato uefa uefa cambiatemi da lei tu la vuoi bene a Isa uefa tu la vuoi bene a Isa ma poi c'è non lo spu 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 sai perché sai tu non lo spu non lo spu parla parla non tu sei innamorato tu vuoi dire sono tant e migliori l'amore ancora tu e tu ma vita spesa e che devo fare di mia madre e che devo fare di mia madre tu vuoi chi parla partite domani e fa la partia tu signore o non signore ci consiglio che se non so che vuoi fare credo che ci sia la carta non lo stai portando là tu mi vieni qui in avanti si vieni qui in avanti e non riesci a andare qui Isa vieni qui in avanti a te che l'ora sta posta mi lascia che 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 si si da stamattina che mi ha scappato io tutti i problemi che succedono che sa che fin da me non si cerchi da miglior si capisce perché mi vuole bene lo so dammi dammi dai un cibo come anche i doni vuoi fare che mi ha dato la carta la parola e la parola e che dà cosa che ti ho detto dai un uomo ma le picco tutti i problemi voi fate grazie grazie Isa se ne scelte ci si dice ah si ah si che dà tanto vuoi parlare che dà tanto non devo andare devo andare ma tu ti dà spese che cotto che da domani vai essere la carta e prima che passi l'ultima da ma fratella ma io non voglio tu sei innamorata non la cosa che mi ha fatto non non voglio più come appre c'è un consiglio che ti ha fatto c'è un voglio bene però non sa che sono dei tue sangue ehi tu adesso tu piace la data tu ti dà spese ma c'è che mi ha spese che vuoi ehi stamattina come becchi timote che giudic andandish dhe famote non mua esda kone o vuistite bianc u shema ketenzime ma io voglio frekuente ma io voglio frekuente ma io voglio frekuente nate pic vediamo come va ci non e che ascolti qui ora è mangiato pizza si senti frattu ma giò il nostro non so non sa ma dove stai ma non so vedi la che ci non so poco senza ma giò il nostro bra è vero c'è c'è non so ma che facciare che bullet fa la i le 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 Grazie.